Immerso era in meditabonda correttiva fase, quand'ecco apparvemi d'incanto illuminante lettera del degno fondator di Talp Creek. Ordunque lessi attentamente la sua favella scritta, ed indi accinsimi a soddisfar sue lessicali voglie, sperollo accontentato averli sui voleri, facendo in umiltà picciol richiesta, fornir lo sottoscritto di dizionar la magna in cui appaio mi distinte le dette incazzarevoli parole che io giammai nel futuro adoprerò. Grazie a tutti.